ok adesso che ho capito come funziona diamo una seconda occhiata innanzitutto questo qui è usb solo per caricare quando è caricato si chiude così è più portatile per accenderlo si preme e si aspetta che la luce blu lampeggi vuol dire che è acceso accendiamo l'iphone e lanciamo il programma connesso ecco qui ci stanno vari folder di documenti c'è la guida per farlo funzionare con tutte le istruzioncine poi ci sta la musica questo viene da questo non sta dentro l'iphone ok back poi abbiamo le foto sempre da questo back un'altra foto poi abbiamo i video i video con le spiegazioni di come funziona per esempio per cominciare immaginate un video che avete messo su la gattuccetta ve lo guardate sull'iphone anche tenendolo lontano in tasca così non vi da facilità se avete sull'iphone convido che viene già flash drive eccezionale veramente ok contenti alla prossima qui ciao questo